Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto modellini in scala 1990 Mercedes-Benz 500. Black Manufacturer, Auto Art Scale. 1.18 Diecast. Black Manufacturer, Auto Art. Scale. 1.18 Diecast. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.